Intelligenza artificiale, l'algoretica sia sempre al servizio dell'uomo. Lo scopo dell'incontro dibattito svoltosi nella sede di Confindustria Chieti Pescara. Concentrare l'attenzione sui temi che l'umanità si trova ad affrontare. La tecnologia sempre più pervasiva, i divari enormi di sapere e dunque di potere. La testimonianza di Paolo Benanti, presbitero e teologo italiano del terzo ordine regolare di San Francesco e il presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca. Diciamo che da quando la macchina è in grado sostanzialmente di surrogare quelle che sono le scelte dell'uomo, abbiamo di fronte a noi un nuovo attore sociale. Non è più, rimanendo nell'esempio dell'industria, il proprietario o il manager, non è più semplicemente il lavoratore, ma c'è l'algoritmo che determina in maniera più o meno consapevole da parte di chi gli sta accanto quali saranno le scelte. E allora è chiaro che questa nuova macchina che guida un po' da sola, se mi permettete l'immagine, ha bisogno di dei guardrail. Ecco, l'etica nel mondo dell'intelligenza artificiale, altro non sono che quei guardrail che tendono a tenere tutto il processo industriale verso la meta che si è data. Noi potremmo avere dei sistemi altramente tecnologici che però ci sfuggono di mano e in tempi complessi e variabili come quelli che stiamo vivendo, rimanere al centro del processo decisionale, tenere l'uomo al centro è quella garanzia che trasforma l'innovazione nello sviluppo, cioè che crea ricchezza e benessere per le persone e per un territorio. Purtroppo devo dire che siamo in un paese dove la digital transformation stenta a decollare, siamo fanalino di coda in Europa, però devo dire che rispetto all'innovazione in senso generale forse qualche attenuante ce l'abbiamo nell'ambito dell'intelligenza artificiale che è evidentemente in mano a poche aziende a livello mondiale. Molto spesso parliamo di innovazione, ma l'innovazione di per sé per portare progresso ha bisogno di una buona governance e questo ovviamente a garanzia del fatto che al centro ci sia poi sempre l'uomo.